Ciao a tutti, questo è il mio dojo dove insegno da più di vent'anni scienze oristiche orientali. Questo è un video per illustrarvi il cambiamento dei corsi online, dove all'interno troverete varie discipline dal buddismo al taurismo e all'unismo. Ci sarà sempre il Qigong per la riabilitazione, per la postura, per il coordinamento, ci sarà lo yoga terapeutico, avremo la meditazione, la respirazione e tant'altro. Per accedere ai corsi ci si può abbonare attraverso il mio sito dove potete accedere per tutto il mese corrente, tutti i giorni, a qualsiasi ora del giorno. Seguirà un breve video di illustrazioni. Grazie dell'attenzione. Grazie. 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 Posizione yoga per rinforzare il pavimento pelvico. Porto il piede destro all'esterno del piede sinistro, aggancio le mani, solo l'indice rimanga verso l'alto, spingo in alto, contrago i polpacci, l'interno coscia, i glutei, tutta la zona pelvica, spingo le braccia in alto e le ginocchia verso il basso, mantenendo sempre contratto tutti i muscoli pelvici, soprattutto vado a flettere il bacino leggermente verso avanti, mantengo la posizione. Poi rilasso, cambio, porto il piede sinistro all'esterno, la stessa cosa, controllo tutto, soprattutto l'interno coscia, spingo le braccia in alto, le ginocchia in basso, il bacino flesso verso avanti. Rilasso, un respiro profondo e chiudo. Il bacino Stato Un'antica Un'istono A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.